MZ Congressi sceglie Rimini e in particolar modo il Palazzo dei Congressi di Rimini da tanti anni. Spinge i propri clienti a venire in questa sede per diverse motivazioni. Senz'altro il Palazzo dei Congressi, noi riteniamo che questo sia uno dei migliori palazzi dei congressi d'Italia, funzionale, ampio, con un ottimo spazio espositivo, senza colonne. Le aziende infatti prediligono insieme a noi la sede congressuale di Rimini soprattutto per questo motivo. È molto funzionale appunto, di facile accesso sia per le aziende che per i partecipanti, ha un buon rapporto qualità-prezzo e inoltre devo dire francamente che dopo tanti anni di nostra presenza sul territorio abbiamo anche un ottimo rapporto con i fornitori sia all'interno della struttura congressuale che a livello esterno con gli alberghi, i ristoranti stessi, un po' tutto quello che è il territorio Rimini. Quando si dice che in Romagna c'è una particolare propensione all'ospitalità devo dire che è così. Noi la riscontriamo da tanto tempo e quindi facilmente invitiamo i nostri clienti a visitare il palazzo, a pensare proprio ai propri eventi su questa sede. Problemi organizzativi che si possono riscontrare in questo genere di eventi per quanto riguarda lo spazio espositivo possono essere diversi, ma ad esempio i grossi macchinari che in alcuni ambienti sono di difficile gestione sia per il peso che per l'altezza e la portata. Invece in Rimini il Palacongressi consente anche di ospitare manifestazioni oltre che con un numero elevato di partecipanti anche con un'area espositiva che sia in grado di ospitare macchinari pesanti e quindi ci aiuta e ci agevola anche in questa cosa. Comunque il Palacongressi qualsiasi problema o dovesse nascere sono sempre pronti, disponibili e hanno sempre una soluzione per tutto.